Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo in Liguria nella giornata di domenica, contesto appunto anticiclonico, ventilazione a tratti moderata. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'imperiese. Non mancheranno ampi spazi assolati per l'intera giornata di domenica, temperature minime e contenute massime che raggiungeranno anche i 16 gradi. Sul Savonese, situazione praticamente analoga, il sole continuerà a splendere ovunque, temperature massime che raggiungeranno anche i 15-16 gradi, con clima molto piacevole per il periodo. Su Genova ed intorni, situazione analoga, sole protagonista con temperature minime che saranno comprese tra i 6-12 gradi, massime che raggiungeranno anche qui i 15-16 gradi. Sul Tigulio non mancheranno spazi soleggiati tra mattina e pomeriggio, temperature massime che anche qui supereranno i 15 gradi. Il clima sarà mite anche sullo spezzino con punte di 16-17 gradi, il tutto in un contesto all'insegna del bel tempo. Ci attene una giornata di lunedì di bel tempo in Liguria. Il sole splenderà ovunque, le temperature massime supereranno ancora le medie stagionali. Tutti i dettagli, come sempre, sull'app di Trevi Meteo.